La protesi monocompartimentale di ginocchio è una mini protesi che sostituisce il solo compartimento danneggiato del nostro ginocchio. Il ginocchio è infatti costituito da tre compartimenti, il compartimento femorotibiale interno, femorotibiale esterno e quello femororotuleo, cioè tra la rotula e il femore. La protesi monocompartimentale è costituita da una componente femorale, da una componente tibiale e da un inserto in plastica che si interpone tra le superfici consentendone il reciproco scorrimento. La protesi monocompartimentale può essere realizzata sia per il compartimento interno che esterno o femororotuleo. Questo consente di sostituire solo ciò che è realmente danneggiato all'interno del nostro ginocchio salvaguardando anche i legamenti crociati anteriore e posteriore che rappresentano il compartimento centrale del nostro ginocchio e sono responsabili della sua stabilità e propriocezione.